L'ultimo mercatino dell'antiquariato l'abbiamo fatto il 25 di ottobre 2020. Chi già lo sapeva, chi nella passeggiata domenicale se l'è ritrovato inaspettatamente di fronte. Borgo Cavour è tornato ad animarsi con il mercatino dell'antiquariato che mancava ormai da oltre quattro mesi. Un contraccolpo per le attività di questa porzione di città. Tutta la zona è stata un po' depressa proprio da questi mercatini mancanti durante novembre e tutti i mercatini di Natale e di dicembre. Riapertura cauta, a fronte delle consuete 200 richieste di espositori, via libera solamente a una novantina. Alpini è volontari dell'associazione Borgo Cavour agli ingressi e tra la gente per invitare chi si avvicina alle bancarelle a mantenere il distanziamento e utilizzare correttamente la mascherina. Non vediamo particolari problemi, le persone che stanno sorvegliando la zona lo stanno facendo molto bene e da questa mattina non abbiamo mai visto aggregazioni fuori dai limiti. Si voleva finalmente questo ritorno? Sì, sì, speriamo che aprano anche tutti gli altri mercati e manifestazioni sempre in sicurezza. Sarà ora, se aveva voglia di tornare a farlo. Soddisfatti anche i baristi? E voi tornate con il vostro menù tradizionale? Certo. Che sarebbe? Come sempre, pasta e fagioli, trippe, panini di copparchetta e birra artigianale. Adesso siamo un po' avanti con la stagione, di solito facciamo anche brulè. Il calendario è già stilato, l'appuntamento fisso è ogni quarta domenica del mese di PCM permettendo.